Un rene per continuare a vivere. Il grande gesto d'amore di un papà che vuole salvare il suo giovane figlio. È accaduto al Policlinico di Bari dove uno staff di professionisti è stato protagonista di uno straordinario intervento su un paziente ventenne diversamente abile. Un miracolo compiuto grazie alla generosità del padre e alla bravura del personale medico dell'ospedale. Il ragazzo con un'insufficienza renale affetto da deficit cognitivo associato a sordità e cecità e con una fortissima paura degli aghi è stato sottoposto ad un delicato trapianto di rene da vivente. Uno dei primi interventi di questo genere realizzati in Italia su una persona con grave disabilità. Non vede, non sente, quindi il contatto delle mani, la voce è comunque una cosa fondamentale. Seguito in un primo tempo a Roma, il giovane era arrivato successivamente al Policlinico di Bari dove aveva cominciato il trattamento di dialisi. Ma proprio la sua fobia degli aghi ha reso indispensabile procedere con il trapianto. Così è stato studiato un apposito protocollo di gestione del paziente non solo per l'operazione ma anche per la fase pre e postchirurgica. Un lavoro svolto da una squadra di anestesisti, rianimatori, urologi, immunologi e nefrologi composta da 64 professionisti. Non è stato un intervento facile su un ragazzo che ha una disabilità grave. Tutta l'equip che lo segue, la professionalità, la disponibilità, l'umanità che ho trovato. Il personale è molto garbato nel senso con lui, lo accarezzava, l'ha toccato, l'ha coccolato. Per via della sua fobia degli aghi il giovane è stato addormentato per quattro giorni e ricoverato nel reparto di rianimazione. Quando si è risvegliato era tutto finito e le sue condizioni di salute erano buone. Anzi, a sorpresa, dopo l'intervento sembra quasi aver superato la sua paura. A breve sarà dimesso dall'ospedale e potrà tornare a casa. Grazie, gli hanno ridato la vita. Grazie.